Buongiorno e bentrovati a questa puntata di Informati. Siamo al terzo tavolo di confronto tra i sindacati, le parti sociali e il governo. È un momento difficile e complicato, oggi a Palazzo Chigi si discute della riforma del mercato del lavoro, si è già tentato in un primo momento, i primi di gennaio, con altri tavoli, tante le questioni sul tappeto. E Mario Monti, in un'intervista a Sky TG24, ha già dichiarato che anche se l'accordo tra le parti sociali e il governo non dovesse arrivare, comunque l'esecutivo andrà avanti. Di questo, in particolare del tanto discusso articolo 18, parleremo insieme ai nostri ospiti oggi. Allora do subito il benvenuto a Pierluigi Cacco, amministratore delegato della Servizi Treviso SRL. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi. E poi benvenuto a Antonio Ventura, che è responsabile dell'ufficio vertenze della CGL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. E bentornato a Giacomo Vendrame, che è responsabile della Camera del lavoro della CGL di Treviso. Buongiorno. Allora, andiamo subito a vedere in questa scheda introduttiva di che cosa si discute. Pronti via, il terzo tavolo di confronto tra le parti sociali e il governo sulla riforma del mercato del lavoro si è aperto. L'incontro si aggiunge agli altri due che si sono tenuti nei primi giorni di febbraio e che ha visto i sindacati, in primis Camusso, puntare i piedi. In particolare sulla questione dell'articolo 18, che il sindacato confederale non vede come uno strumento di rilancio del mercato del lavoro. Possibilisti, invece, Cisle e Will, che sembrano aprire a una limitazione del reintegro giudiziario ai casi di licenziamento nulli o discriminatori. Sul fronte degli ammortizzatori, l'obiettivo è una semplificazione degli istituti, con la Cassa Integrazione per crisi temporanea o strutturale, uno strumento universale post-licenziamento come l'indennità di mobilità. Via Libera l'apprendistato da parte dei confederali, favorevoli a considerarlo il principale canale d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. I servizi per l'impiego, invece, potrebbero essere riformati e potrebbero trovarsi a dialogare maggiormente con le regioni. La convergenza è parziale, poi, sul lavoro flessibile. Se, infatti, i sindacati e le imprese sembrano marciare insieme nel contrastare la cattiva flessibilità, non è chiaro come l'obiettivo verrà perseguito, se affidando i controlli a degli ispettori o se facendo pagare a caro prezzo il lavoro a scadenza. Allora, Pierluigi Cacco, è di questo che si discute. Intanto, secondo te, arriverà un accordo oppure no? Si arriverà a un accordo? È difficile dirlo adesso, però ci potrebbe essere. Noi ovviamente auspichiamo che Sirivi ha un accordo, ovviamente non un accordo a costi eccessivi, perché pensiamo che questi costi i lavoratori li stanno già pagando. Lo scenario che abbiamo attreviso in Italia del lavoro è uno scenario preoccupante. Ci sono licenziamenti, ci sono ancora lavoratori sopra le gru, stanno perdendo il posto di lavoro e quindi c'è una situazione già per se stessa molto grave. La trattativa che si apre dovrebbe affrontare queste questioni per risolverle e non per complicarle. In particolare la questione dell'articolo 18 ci sembra davvero, come dirla, insomma, è una follia, perché non è quello che si dice, perfino in Confindustria si è aperto questo dibattito. L'articolo 18 non è un problema e a me sembra tanto un tranello, un trabocchetto, una buca per farci cadere dentro, dividere i sindacati, perché ovviamente tutti siamo preoccupati e tutti vorremmo trovare un accordo, ma è un trabocchetto perché? Perché non risolve niente. Cioè eliminare l'articolo 18 significa, dopo che i lavoratori già stanno pagando in maniera molto grave la situazione pesante nel nostro paese, dare il senso ai lavoratori che per loro non c'è giustizia. Cioè se tu cammini in piazza dei signori e qualcuno ti fa qualcosa, ti dà la pacca in testa, tu vai dal giudice, ti dà ragione e questo risponde come la legge prevede. Se tu vieni licenziato senza nessun motivo, non perché non c'è il lavoro, non perché c'è un motivo produttivo, ma vieni licenziato così, vai dal giudice e tu non hai il riconoscimento di questo. Diamo il senso anche psicologico di un'ingiustizia, che è una follia. Ecco perché credo che la trattativa si possa aprire togliendo dal tavolo questa questione e trovando invece soluzioni su tante altre questioni che i lavoratori si aspettano di salvaguardia del proprio reddito, del poter passare tranquillamente da un lavoro all'altro, del lavoro che se il lavoro sia flessibile e non precario. Queste sono le questioni che noi ci auguriamo vengano affrontate in maniera corretta. Allora, prima di andare a parlare un po' di più dell'articolo 18, un'altra questione. Michel Martone, vice ministro al lavoro, ha in qualche maniera salutato positivamente questo tentativo di dialogo tra le parti sociali e anche ovviamente di accordo tra le parti sociali e il governo e ha detto che l'Italia esprime una discontinuità rispetto ad altri paesi europei, quindi rispetto alla Grecia e alla Spagna, dove di fatto il governo ha d'amblè preso le decisioni del caso senza di fatto consultare le parti sociali. È un segnale comunque positivo rispetto agli altri paesi? L'Italia non è la Grecia, sono due paesi completamente diversi. La Grecia si trova in queste condizioni per problemi diversi dai nostri. L'Italia però ha necessità di ammodernare il paese, ma l'ammodernamento del paese non passa attraverso la penalizzazione dei ceti più deboli, passa attraverso delle ingiustizie che ancora in Italia permangono, passa attraverso una retratezza della pubblica amministrazione, non per causa dei lavoratori, passa attraverso privilegi, passa attraverso corporazioni. Abbiamo visto, il governo dice, se i sindacati non sono d'accordo andiamo avanti. Beh, lo hanno già fatto, perché sulle pensioni noi non eravamo d'accordo con quell'impostazione e sono andato avanti e stiamo chiedendo delle modifiche. Ma si è fermato di fronte ai potentati classici, si è fermato di fronte a tante altre questioni. Insomma, non voglio citare tassisti, farmacie, notai, avvocati. Certo, ha fatto più di altri, questo bisogna dare atto a noi. Io penso, insomma, che ho salutato il governo Monti come ossigeno, come aria pulita e nuova che arriva, c'è uno stile diverso e quindi, voglio dire, ha fatto, senz'altro sta facendo alcune cose interessanti, ma non dica che senza l'accordo, no, si fa comunque. Perché non lo fa quei potentati? Certo, sta facendo la battaglia e l'evasione che non abbiamo mai visto, ma anche lì vada avanti, insomma, e vada avanti con più capabilità, cioè non si può prendersela sempre quei più deboli. Allora, prima di sentire proprio da Antonio Ventura che ha il polso della situazione da questo punto di vista e cioè quanto si è fatto ricorso a questo famoso articolo 18 anche proprio sul nostro territorio, mandiamo in onda delle interviste realizzate qui a Treviso per capire che cosa ne pensano i trevisiani di questo famosissimo articolo 18, abolirlo, riformarlo, sentiamo. I sindacati hanno fatto un'apertura per quanto riguarda al posto del reintegro sul posto di lavoro del dipendente un risarcimento, diciamo così. Se si vuole evitare di dare un diritto al lavoratore che sarebbe il suo posto di lavoro e trovare un escammotage per spiazzarlo, insomma, si dà un risarcimento e poi si arrangi. Io sono italo-australiana, la nostra Costituzione prevede appunto qualcosa oltre l'articolo 18, nel senso che un ben remunerato incentivo a trovarsi in un altro posto di lavoro è comunque sempre apprezzato, non vedo perché questo non potrebbe essere in vigore anche in Italia che tutto sommato non se la passa molto meglio rispetto all'australia. Il fatto che non ci sono più garanzie a tutelare del lavoro per me è un passo indietro. Boh, sono tutti d'accordo, credo, che i sindacati non fanno niente per agevolare l'operaio. Una mistificazione, nel senso che l'articolo 18 non va assolutamente a incidere sui problemi economici e di lavoro. Basta vedere che le tutele ci sono anche negli altri paesi, in Italia siamo speciali. Tutto finalizzato ad avere i soldi per i politici, perché così se li intascano e noi siamo, come si dice, poverelli. Preferisco, mettendomi dalla parte dei lavoratori, preferisco la rintegrazione e non il risarcimento. Non ce ne facciamo niente dei risarcimenti. Va studiato bene, ma sì, siamo a volte troppo tutelati rispetto a quello che hanno bisogno le aziende. No, no, credo che una modifica possa essere accettata, se studiata bene. Antonio Ventura, una modifica può essere accettata, se studiata bene, come dice il telespettatore? In realtà la domanda che mi pongo sempre è qual è il risultato che si vuole ottenere andando a modificare l'articolo 18. Perché nella realtà dei fatti è una norma che viene considerata più un deterrente da parte delle aziende che un problema reale. Nel senso che l'azienda, anzi scusate, partiamo proprio dal punto base. In Italia i licenziamenti possono essere fatti. Sì. La situazione attuale lo rende evidente. Quello che non può essere fatto, e io credo che chiunque lo consideri un atto di civiltà, è il licenziamento arbitrario. Cioè l'azienda non può licenziare una persona se non ha un motivo valido per farlo. L'articolo 18 in realtà vieta solamente questo, un mero arbitrio da parte del datore di lavoro. Per cui, togliendo questo vincolo al datore di lavoro, cosa si vuole ottenere? Cioè si arriva al punto in cui il datore di lavoro può licenziare una persona a prescindere da un qualsiasi motivo. E questo comporta dei problemi, non solo sul posto di lavoro. Nelle aziende più... Capiamo. Sì, sì, tra l'altro... Sì. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, perché l'articolo 18 riguarda solo appunto le aziende di una certa dimensione. Che è solo la minoranza in Italia. Tra l'altro. Poi nel Veneto in particolare è fatto da piccole e medie imprese. Evidente. Ma a cosa porta questo? Non solo a un problema che riguarda il rapporto di lavoro inteso come il mio posto di lavoro, ma anche come io sono in grado di tutelare tutti gli altri miei diritti all'interno del posto di lavoro. Faccio un esempio semplicissimo. Se non ci fosse l'articolo 18, io ho diritto a un mese di ferie, le chiedo al mio datore di lavoro, il mio datore di lavoro mi dice no, quest'anno ferie non se ne fanno. Io vado in ferie, il datore di lavoro mi licenzia, non ho nessuna tutela. Straordinari. Mi chiedono di fargli straordinari, non me li pagano e io il giorno dopo mi rifiuto di farli, logicamente. Il datore di lavoro mi licenzia, io come mi difendo? Se non esistesse l'articolo 18. Per cui la ripercussione non è solo nel posto di lavoro in sé, ma anche in tutti i diritti collegati al rapporto di lavoro. Per questo è veramente una base di civiltà l'articolo 18. Tornando alla domanda nel concreto, l'applicazione reale di quest'articolo 18 in realtà è molto modesta. Io ho fatto una verifica sulle statistiche del nostro ufficio, parliamo dalle 10 alle 20 vertenze raccolte all'anno. Raccolte significa ricevute, esatto. Il che non significa che dopo si vada in causa su tutte, che ci sia la possibilità su tutte di arrivare a un contenzioso davanti al giudice. Cioè mettiamo su 15 più o meno quante sono? Su 15 può essere una causa, 5 possono essere le cause. Di queste 5 poi, tornando al reportage che avete fatto, si parla di risarcimento, si parla di reintegra. In realtà di queste 5, neanche una si concretizza in una reintegra. Perché il lavoratore stesso ha difficoltà a rientrare in un posto di lavoro dal quale è stato espulso in maniera non corretta e nel quale è evidente che non viene accettato. Per cui il 99,9% dei casi, anche nel momento in cui il giudice mi dà ragione e mi permette di rientrare nel posto di lavoro, ripeto, nel 99,9% dei casi si risolve tutto con un risarcimento. Ecco, perché le segnalazioni che vi sono arrivate magari dai lavoratori che hanno fatto ricorso all'articolo 18, su che cosa vertevano? Cioè qual è il problema per cui si è dovuto fare ricorso all'articolo 18? Direi che la maggior parte riguardano licenziamenti disciplinari, dove però o la motivazione non è sufficiente perché voglio dire anche nei comportamenti tra virgolette scorretti che può avere un lavoratore c'è una gradualità nelle sanzioni, cioè se arrivo in ritardo di 5 minuti non è che mi puoi licenziare. Per cui alcune volte si è contestato il licenziamento perché il licenziamento era una sanzione eccessiva rispetto all'infrazione commessa dal lavoratore. Altri casi sono quelli in cui l'azienda paventa una crisi o una mancanza di lavoro, cose di questo tipo, cioè problemi non legati al lavoratore ma alla situazione aziendale che in realtà si scopre non essere veri. Ecco, in questo momento difficile proprio per il mercato del lavoro, quali sono le richieste che all'ufficio vertenze arrivano maggiormente, più in… Al di là del licenziamento io direi che il 50% delle pratiche sono recuperi crediti, di persone che avanzano gli stipendi, di persone che hanno già terminato il rapporto di lavoro per licenziamento o per dimissioni e non riescono a recuperare il TFR, non riescono a recuperare le ultime mensilità. Perché l'azienda non vuole pagare o perché l'azienda non ha i soldi per farlo? Per noi non è semplice capire questa cosa perché ovviamente non è che siamo come dire nell'amministrazione dell'azienda, devo dire la verità che è evidente che ci sono grossi problemi economici per cui negli anni passati forse era più frequente l'ipotesi in cui il datore di lavoro per sfregio, per dispetto non pagava e diceva fammi causa. Attualmente è molto superiore la percentuale di aziende che non riescono a pagare effettivamente. Ecco, io ricordo anche il nostro numero di telefono che è lo 0422 360523 se volete fare delle domande insomma ai nostri esperti. Dunque, passo a Giacomo Vendrame. C'era un'altra diciamo ipotesi che si avanzava prima rispetto alla questione del perché non piace così tanto questo articolo 18 alle imprese? Perché potrebbe non piacere così tanto? No, in realtà Antonio lo diceva, cioè diventa un costo non esplicito ma intrinseco per le aziende nel senso che le aziende vorrebbero avere da un certo punto di vista, anche se poi come diceva giustamente Gigi, sono le stesse aziende che si rendono conto che spesso non è lì il motivo del problema Italia diciamo, però è un costo di mediazione se vogliamo rispetto perché come appunto diceva Antonio ci sono, questo ti permette di avere una situazione di esigibilità dei diritti se volete, sia nel posto di lavoro e quindi in rapporto di lavoro ma anche poi successivamente, vogliono avere il libero arbitrio per ridurre i costi del licenziamento fondamentalmente, però ripeto non è questo il problema, il problema vero in questo momento dell'Italia è creare posti di lavoro in un'Italia che non cresce, in un'Italia che non ha sviluppo, quindi creare nuovi posti di lavoro per dare nuove prospettive al paese dal punto di vista economico, sociale e via dicendo. Ecco tu che sei anche segretario del NIDI CGL, cosa ne pensi di questa formula dell'apprendistato? Tutto sommato sembra che ci sia stata una coesione di vedute tra l'esecutivo e le parti sociali su questa questione, cioè l'apprendistato come momento per entrare, passaggio, entrata nel mondo del lavoro? Beh può essere una soluzione, nel senso che bisogna ricordare che comunque l'apprendistato esistiva già, è chiaro che va rafforzato, il problema dell'apprendistato è che è un percorso di lavoro ma anche di formazione e quindi bisogna valutare anche il percorso di formazione come è fatto, può essere un'opportunità professionalizzante ma anche di alte qualifiche tant'è che c'è comunque l'apprendistato anche per alte qualifiche e quindi può essere un'opportunità effettiva di inserimento per una persona che viene magari da un percorso scolastico che è comunque importante ma che non ti insegna effettivamente come si fa quel lavoro, l'importante è che sia un percorso effettivo di formazione di lavoro e che non sia un altro dei tanti modi per eludere un rapporto di lavoro dipendente normale. Ma questo voglio dire, il problema è anche culturale come è stato detto, possiamo inventare molti strumenti però poi se gli strumenti vengono utilizzati male è chiaro che ritorniamo al punto di partenza insomma. Ecco invece in tema di flessibilità del lavoro si parla di due opzioni, o rendere il lavoro flessibile quindi a tempo determinato non solo più costoso oppure creare diciamo una struttura che vada a fare dei controlli più mirati e che porti alla luce delle situazioni irregolari cioè di lavoro flessibile irregolare. Intanto precisiamo un attimo, quando il lavoro flessibile è irregolare? Penso ai contratti a progetto ma penso a tutti quei contratti di collaborazione o di lavoro anche autonomo alle partite IVA monocommittenza in che in realtà stanno nascondendo un rapporto di lavoro effettivamente subordinato da dipendente. Questa è la tipologia diciamo più grande, poi ce ne sono tante altre però questo è uno degli elementi secondo me più emergenti. Purtroppo il 90% dei contratti a progetto sono illusione di lavoro dipendente, questa è la realtà. E rispetto alle due soluzioni intanto dico perché non fare tutte e due, nel senso che non è che una vieta l'altra. Poi non lo devono già fare. Appunto, il punto vero è che i controlli ci sono già e dovrebbero esserci già e quindi il 90% di irregolarità diciamo, che è chiaramente solo presunta perché poi molto spesso un altro problema di questi lavoratori che sono contratti di lavoro individuali e sono sottoposti a quel ricatto che bene spiegava prima Antonio nel caso in cui non ci fosse l'articolo 18. Cioè io ho un contratto con una scadenza, se inizio a porre un po' di questioni sulla modalità di lavoro che ho, sulla qualità del lavoro e via dicendo, è chiaro che inizio ad avere magari qualche problema perché ho paura di non essere più, che non mi venga più rinnovato il contratto e quindi anche la capacità di questi soggetti di far valere i propri diritti è limitata perché è chiaro che subentra lo stato di necessità. Ho il figlio a casa, ho un mutuo da pagare, è meglio che me ne sto buono e via dicendo. Anche questa è una spirale negativa. Quindi io sono per la proposta di far costare di più queste forme di lavoro perché ci sia un disincentivo alla partenza. Quanto di più e come? Sotto forma di contributi pensionistici? Esatto, lì è la questione perché in questo momento un contratto progetto sta pagando meno contributi in un lavoro dipendente e i contributi siccome li paga un terzo il lavoratore dipendente e due terzi l'azienda, se chiaramente questi contributi sono più bassi significa un risparmio per l'azienda che lo utilizza proprio per questo e anche perché può interrompere il rapporto di lavoro quando vuole e via dicendo. Quindi far sì che il costo previdenziale, che tra l'altro andrebbe beneficio del lavoratore stesso, che avrebbe quindi più copertura dal punto di vista previdenziale, disincentiverebbe le aziende ad assumere questi lavoratori perché avrebbero dei costi maggiori. Io penso che un'azione del genere farebbe... C'è già in parte con le agenzie per l'impiego o no? Certo, ad esempio il lavoro tramite agenzia somministrato costa effettivamente di più. Perché c'è un doppio costo da pagare l'agenzia... Esatto, e lo paga l'azienda. E siccome quello è un percorso già più garantito rispetto a un contratto a progetto, perché lì siamo in presenza di un rapporto di lavoro che è regolato da un contratto nazionale, cioè ci sono le regole che valgono per tutti. E chiaramente questo è un grande passo in avanti rispetto a un contratto a progetto che invece io devo mettermi al tavolo con il mio datore di lavoro e decidere quali sono i contenuti di quel rapporto di lavoro. È chiaro che se ho bisogno di quel lavoro, o meglio, se il mio datore mi dice o questo o quella è la porta, diventa un po' un problema, insomma. Ecco, capita mai, chiedo ad Antonio, invece se appunto ragazzi, giovani, sono venuti proprio all'ufficio Avertenze per dire mi sembra di essere nella situazione che il mio dovrebbe essere un contratto di tipo subordinato e invece... Purtroppo tutti quelli che passano con contratto a progetto, associazioni in partecipazione, contratti flessibili cosiddetti, io non vorrei esagerare, ma tutti quelli che passano con queste tipologie di lavoro in realtà andando a scavare, ad analizzare bene come si è svolto il rapporto di lavoro, sono rapporti di lavoro dipendente. Per cui quel 90% mi sento di confermarlo, addirittura elevarlo. A questi ragazzi, o a questi giovani, o a queste persone che cosa dici? Qui il problema, dopo dal punto di vista propriamente tecnico, è quello di riuscire a dimostrare come si è svolto il rapporto di lavoro, perché per fortuna anche da questo punto di vista la tutela legale prevede che se abbiamo sottoscritto un contratto a progetto, ma nella realtà dei fatti il rapporto di lavoro si è svolto come dipendente, ho diritto ad avere il riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente. Ma per quanto tempo? Sempre limitato al periodo in cui c'è stato il rapporto di lavoro, non si parla di articolo 18, però quantomeno il passato, il rapporto di lavoro passato... Bisogna dire che, se no ci rimprovera Francesca Furbano, ci dice ma allora perché non fate l'avvertenza, non andate in tribunale, non fate applicare la norma? Spiega che non conviene purtroppo in questo paese così, l'illegalità a certe volte viene consumata sulle spalle dei giovani perché non conviene né per aspetti economici né per tempi poi procedere in tribunale, quindi tenti la mediazione con gli uffici vertenze ed è meglio la mediazione, che noi cerchiamo, speriamo sia... o no? Il problema poi sta anche alla base comunque, al di là di questo, sta anche che il contratto a progetto è stato pensato per una certa professionalità e invece viene applicato in maniera diffusa. Il contratto a progetto era per altre professionalità. Tipo? Per un ricercatore, io sono un ricercatore, scrivo dei pezzi economici e ho più committenti e chiaramente essendo una persona molto, ho più contratti, essendo una persona molto professionalizzata ho un potere contrattuale forte perché chiaramente sono... e quindi faccio questa attività che è una via di mezzo tra il dipendente e il libero professionista perché ho dei notevoli vantaggi rispetto al libero professionista e quindi era pensato per quella, avere un operaio a progetto è un controsenso in termini e quindi anche la normativa non riesce in qualche modo aderire ai problemi. Meglio le agenzie per l'impiego da questo punto di vista? Da questo punto di vista assolutamente sì, perché ci sono delle regole certe e possiamo in qualche modo anche intervenire molto più facilmente perché hai un interlocutore, un interlocutore che ti ascolta, un interlocutore che in qualche modo è anche abituato a delle relazioni di tipo sindacale. Ecco avete sollevato la questione delle agenzie per l'impiego, i servizi invece per l'impiego si parla di riformare anche quelli, verranno appunto riformati e dovranno dialogare maggiormente con le regioni, cosa ne pensate Giacomo? Beh questo è sicuramente positivo, dobbiamo considerare che i centri per l'impiego in provincia di Treviso ad esempio funzionano, voglio dire, sono un punto di riferimento, come questi possono interagire all'interno del mercato del lavoro anche con i soggetti privati è chiaro che è una questione che va affrontata e molto seriamente sapendo che il pubblico ha delle responsabilità e il privato ha altre finalità, quindi bisogna ben distinguere le due cose però è sicuramente il percorso che va fatto, sapendo che appunto le società anche di somministrazione troppo spesso sono legate alla somministrazione invece non fanno gli altri due ambiti che a livello europeo invece svolgono, cioè la selezione e la formazione, perché ripeto anche la formazione in un periodo di trasformazione dal punto di vista produttivo è fondamentale per far sì che un lavoratore sia in qualche modo più facilmente collocabile all'interno del mercato del lavoro. Per Luigi si prendono spesso ad esempio altri paesi anche extra diciamo europei in cui la forma di ammortizzatore sociale si traduce in una forma di outplacement, cioè una sorta di nuovo lavoro che viene in qualche maniera fornito, dato. intanto se ne parla anche qui, si è cominciato a parlare anche qui in Italia. Gli ammortizzatori bisogna capire, ci sono gli ammortizzatori sociali che sono una cosa, cioè quando un lavoratore va in mobilità, va in mobilità perché è licenziato e quindi diventa una sorta di ammortizzatore sociale. Ma da noi la straordinaria cosa è l'ammortizzatore stante in azienda, cioè la cassa integrazione permette all'azienda di tenere il lavoratore collegato all'azienda. Ecco, ed io penso sia questo da sviluppare, cioè un conto è pensare alla società, un conto è, e che va bene voglio dire perché ti aiuta a passare da un lavoro a un altro quando l'altro lavoro c'è, ma in questo periodo non c'è l'altro lavoro. Ma c'è anche un problema che riguarda le imprese, cioè è un aiuto che dai non solo al lavoratore, ma dai anche l'impresa. Io in impresa ho un momento di crisi, metto in cassa integrazione dieci lavoratori, quei dieci lavoratori restano collegati a me, il problema è cosa fanno quei dieci lavoratori tanto che stanno in cassa integrazione? Vanno a far lavoro nero? Cosa fanno? Il punto vero è, se il mercato del lavoro che stiamo ragionando crea le condizioni perché tutto questo sia, voglio dire, propedeutico allo sviluppo successivo e questa è la questione delle questioni, io credo. Ecco, è lo Stato che si fa un po', che si incarica, no? Di trovare un nuovo posto di lavoro e che anche sanziona o in qualche maniera obbliga il lavoratore ad accettare il nuovo posto di lavoro, no? Perché se il lavoratore dice no, io in questo posto, in questo non ci voglio andare. Sì, ma c'è che il lavoratore non debba fare un altro lavoro? No, ma ci sono già delle regole precise sulla possibilità di rifiutare un eventuale posto di lavoro. Ecco, perché anche oggi proprio appariva sul Sole 24 Ore questa nuova proposta, diciamo, in qualche maniera non obbligare perché diventa difficile, ma magari sanzionare anche il lavoratore. Ma c'è già in realtà. C'è già in Italia, sì, c'è già questa cosa, però è che tante volte succedono le cose strane, insomma, in termini di lunghezza di strada che si è previsto, in termini di tipologia di lavoro, cioè succedono anche queste cose, però se gestiamo il mercato del lavoro e siamo, non rigidi nel senso, ma la governiamo, sapendo che abbiamo a che fare con persone, tutto diventa, voglio dire, molto più portato alla risoluzione dei problemi che alla complicazione. Si può fare, si può fare. Allora, io in chiusura chiederei a te, Pierluigi, di dire dove vi possiamo trovare, perché noi ne parliamo in studio, però, insomma, per tutti i problemi che noi incontriamo nel mondo del lavoro, in questo momento in cui la confusione è più totale. Voi dove siete? Fammi dire una cosa, prima. Noi siamo in CGL, ovviamente in tutta la provincia, le sedi della CGL sono conosciute, adesso mettere l'elenco a Treviso in Via D'Andola, Ponegliano, Montevoli, dappertutto. Quindi la CGL è al servizio dei lavoratori, dei pensionati e di chi cerca lavoro. Vorrei però approfittarne oggi per fare un appello a quegli imprenditori, che io credo, insomma, anche a Treviso, ci sono tanti imprenditori intelligenti che hanno prodotto lo sviluppo di questo nostro territorio, assieme ai loro lavoratori. Io credo che un patto tra lavoratori e imprenditori attorno anche a queste cose sia importante. Gli imprenditori sanno, lo sanno benissimo, che l'articolo 18 non c'entra nulla. Sappiamo tutti che certe volte l'articolo 18 difende l'imprenditore da sé stesso. Ho visto nella mia lunga vita anche sindacale licenziare lavoratori che erano, potrei citare anche alcune avvertenze, straordinari i lavoratori e l'imprenditore pentirsene subito dopo. Allora non è l'articolo 18, perché l'imprenditore si deve difendere anche da sé stesso qualche volta per la sfuriata, per la stupidata si arriva. L'articolo 18 è un deterrente in quel senso. Noi dobbiamo invece lavorare assieme per creare le condizioni dello sviluppo prima di aiutare le imprese e aiutare i lavoratori, perché il grande patrimonio sono i lavoratori, ma sono in carne ed ossa, sono persone in carne ed ossa con i loro presi i loro difetti. Ma essendo il nostro patrimonio va salvaguardato. E nella prossima trattativa che si apre, io spero davvero che si capisca questo, che il grande patrimonio è le aziende, alla tecnologia e alla prossima trattativa di lavoratori. E lì dobbiamo impegnarci. Grazie, grazie a tutti per essere stati qui oggi. Io ringrazio anche tutto lo staff tecnico che si è occupato del montaggio, della produzione, della realizzazione delle interviste. Grazie e informati torno a mercoledì prossimo.